Siamo ormai a pochi giorni dal voto del 6 e 7 maggio per il rinnovo dei consigli comunali in Campania. Facciamo un primo bilancio con il leader regionale del PD Enzo Amendola. Segretario, ormai è tempo già di fare i primi conti. Lei ha girato per tutta la Campania. Qual è lo stato di salute del PD e che risultato si attende il 6 e 7 maggio? Innanzitutto quello che mi ha preoccupato di più, come immaginavamo, è lo stato di salute della Campania. I cittadini molti hanno anche seri dubbi se andare a votare o meno. Perché? Perché la crisi economica che ha travolto parte dell'Europa, l'Italia, e qui nel mezzogiorno morde di più, disoccupazione, cassa integrazione. Tante famiglie che adesso anche che arriveranno le tasse locali non riescono a arrivare a fine mese. Quindi la nostra prima preoccupazione è la salute della Campania. Il centro-destra che governa questa regione è completamente lontano, è sordo da qualsiasi aspettativa. Lei si figuri che noi potremmo spendere un miliardo d'euro di fondi europei già quest'anno e non lo facciamo perché loro non hanno programmato. Per non parlare dei trasporti che sono al collasso, a Caserta è fallita l'azienda, a Salerno rischia di fallire e anche a Napoli, con una giunta regionale che è assolutamente immobile. Quindi la prima preoccupazione che noi ci stiamo ponendo in questa campagna elettorale, che stiamo facendo in maniera molto sobria, spese a austerità, è mettersi al servizio civile di una regione in cui tanti cittadini non hanno solo paura di quello che potrà accadere in futuro ai propri figli, ma hanno paura per l'oggi. Quindi lo stato di salute di questa regione non è positivo, a dire la verità. A livello nazionale il governo Monti sta diventando sempre più impopolare. Il PD è la forza politica, forse chi con più responsabilità lo sta appoggiando. Lei pensa o teme che questo atteggiamento nazionale del partito si possa riflettere negativamente anche sugli esiti delle elezioni comunali? Ma io le faccio un esempio per capirci. Prima quando c'era Berlusconi si tagliarono tutte le tasse, a partire dall'Isci, e questo paese stava andando in bancarotta. Questo governo ha introdotto l'Imu, che era una proposta della Lega Nord, che adesso urlano, strepitano tanto, è quello che noi stiamo proponendo, per esempio, di aggiungere una patrimoniale, un'imposta personale sui grandi patrimoni che potrebbe alleggerire le tasse locali. Però questo paese per tre anni hanno festeggiato, hanno fatto di tutto e di più, e noi stavamo rischiando prima di Monti di andare in bancarotta. Adesso è evidente che i sacrifici si stanno facendo per risanare il paese, per evitare la bancarotta. Noi del PD chiediamo che i sacrifici però li facciano di più quelli che hanno di più. Un'imposta patrimoniale sui grandi patrimoni, per esempio, è una cosa giusta, dopo che tanti pensionati e lavoratori diretti hanno pagato di più. Io penso che è una fase di transizione. Il governo Monti ci porterà fuori, come stiamo sperando, fuori dalla crisi economica. Non sarà sufficiente solo l'operato, sarà necessaria anche l'Europa. Un'Europa targata Merkel ci porta al disastro. Un'Europa in cui invece si fanno anche investimenti per la crescita aiuta i paesi più deboli come il nostro. Quello che noi stiamo facendo in questa fase, in cui la politica è una delle attività più odiate dai cittadini, è metterci al servizio, anche pagando dei prezzi. Però chi fa politica per servizio civile in questa fase non può fare né il demagogo e né soprattutto può nascondersi. Quindi noi ci mettiamo la faccia, come si suol dire.